Aspetti più complessi, più pornografici, più difficili di questi racconti che ricordatevi ci toccano così tanto perché sono molto vicini a noi, si perde un po' quel filtro di sicurezza, quella distanza che ci fa sentire rassicurati quando magari a volte sono storie che avvengono oltreoceano, in paesi lontani, in culture che non sono la nostra, invece questa è una storia che è il prodotto della nostra nazione, è una storia che è accaduta, reale, che noi raccontiamo seguendo con molta attenzione la realtà giudiziaria e in questo senso io credo che sia una serie che merita di essere vista anche per sviluppare il proprio senso critico. Grazie. Oltre alla serie Matteo, hai in cantiere dei film personalmente? Sì, però non ne posso parlare adesso perché sto scrivendo un film nuovo e spero di farlo alla fine dell'anno prossimo, diciamo, uscirà, uscirà più avanti. Ci facciamo di niente? No, non posso.